Sotto sequestro lo stabilimento ex Sacci di Corzalone. Giovedì mattina gli agenti della forestale a seguito dell'ordinanza firmata dal GIP Anna Maria Loprete sono intervenuti per mettere sotto sequestro l'intera area con una superficie di quasi 4 ettari, parte nel comune di Bibbiena e parte in quello di Chiusi della Verna. Sigilli dunque alla vecchia sede dell'azienda all'interno della quale si troverebbero residui di amianto e rifiuti pericolosi. L'ordinanza di sequestro è stata richiesta dal PM Angela Masiello che conduce le indagini. L'auspicio dell'amministrazione comunale è quella che si risolvesse la situazione di quell'area tant'è che è stato oggetto anche di una variante urbanistica che consente il recupero dell'intera l'area quindi l'auspicio del comune è quello che si è recuperata l'area nel suo complesso al di là dei blitz. Un'area di cui si era già occupata comunque l'amministrazione? Noi abbiamo qui dei documenti della provincia dell'Elezzo del 2013, la provincia che era competente al momento per quanto riguarda l'ambiente in cui ci dice che da verifiche fatte l'area è bonificata, non ha necessità appunto di bonifiche. Quindi questo è, ora dal 2013 ad oggi non so cosa, quell'area è comunque chiusa, recintata ma non chiaramente sorvegliata, può essere di tutto, io non ho, però da questo punto di vista il comune ha questa certificazione che ci dice che l'area non ha problemi di tipo di inquinamenti ambientali. Adesso quale sarà l'iter che verrà seguito? Immagino che la procura farà delle indagini riguardo appunto alla pericolosità degli eventuali materiali che sono all'interno, dopodiché ci riferirà e se ci sarà avvisata la necessità di fare un'ordinanza, non so di che tipo, chiaramente io non mi esimerò da farlo. Grazie.